Due medici di medicina generale titolari di altrettanti studi dislocati nella provincia di Barletta Andriatrani sono stati denunciati dai carabinieri del NAS nell'ambito di controlli che hanno riguardato gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all'ASL e svolgere soprattutto una verifica generale sulla corretta conduzione dell'ambulatorio. I militari hanno sequestrato 59 confezioni di medicinali tutte privi del bollino farmaceutico e del valore complessivo di almeno 700 euro. In altri due studi medici pediatrici di Bari è stata riscontrata invece la mancata indicazione di alcuni orari di apertura in difformità con la normativa vigente. In una delle due strutture inoltre è stata accertata la conservazione di farmaci e vaccini all'interno di un frigorifero di tipo domestico sistemato in un locale privato e comunicante con la struttura ambulatoriale. Grazie.